inizia il penultimo match da serata fra assagliorezza chizzalacca all'angolo rosso contro stanu stana alexandro de ravena boss all'angolo finale elit 86 stana subisce no 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 in ho Matteo Vedi il grande cuore che si fa sempre sotto e si fa sopra sotto e si fa molto pericoloso sotto però è uno Stana che colpisce bene Colpisce forte Stana però alzare il sangue Finale Siamo subito ancora con il primo Assadi all'attacco Bene Assadi Stana in fondo Stana in strada Bene Risponde Stana Stana adesso Sotto Stana Ancora sotto Stana Stana in stone Stana in stone Stana in stone Grazie a tutti.